Internazionalizzazione, questa è la parola d'ordine che muove l'Ateneo di Cassino per redigere l'offerta formativa dell'anno accademico 2015-2016. Si punta ad attrarre l'attenzione di studenti stranieri, ma al contempo si tenta di dare a quelli italiani gli strumenti necessari per affacciarsi all'estero. Il tutto avviene nell'ottica della continuità. Non sarà il passaggio di consegnere al rettore italianese e al professor Betta a mutare le linee guida che hanno segnato l'Ateneo di Cassino del Lazio Meridionale negli ultimi dieci anni. Non esistono anni di transizione all'università, c'è un principio di continuità nella gestione istituzionale al quale nessuno si può sottrarre. Io lascio nelle mani del professor Betta che succederà alla guida dell'Ateneo a partire dal primo novembre. Un Ateneo in salute, lo dimostrano anche le tanto bistrattate classifiche. Un'offerta formativa che viene mantenuta, un risultato non da poco in un anno, l'ultimo, caratterizzato da tagli orizzontari da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Quest'anno abbiamo rafforzato ulteriormente la nostra offerta formativa approfondendo quello che è un tema fondamentale rappresentato dall'internazionalizzazione. Ormai sono giunti a tre i corsi di laurea e laurea magistrale erogati in lingua inglese, totalmente in lingua inglese. Per quanto riguarda poi invece il polo di Frosinone, lì abbiamo completato l'offerta che punta a realizzare un polo tecnico gestionale. Tutto per creare delle figure che possono essere di supporto alla gestione dell'innovazione in quel bacino industriale che gravita intorno alla città di Frosinone, di cui c'è un grandissimo bisogno. I Love Campus, questo lo slogan scelto per presentare agli studenti la nuova offerta proposta dall'Ateneo Cassinate. In una realtà come quella nazionale in cui non si sa cosa nel mondo del lavoro si andrà a fare. Avere delle figure in grado di ricollocarsi prontamente sul mercato del lavoro in funzione di quelle che sono le richieste è per i nostri studenti la miglior garanzia, per i nostri laureati la miglior garanzia di essere sempre competitivi su quel mercato.